Quello che sembrava tutto facile, tutto semplice, persino scontato, si è nuovamente complicato. Sprecato il primo dei due bonus che aveva a disposizione per archiviare la pratica del secondo posto con largo anticipo, l'Avellino si ritrova da questo pomeriggio a riprendere la preparazione con in testa il fardello di non poter più sbagliare nemmeno mezza mossa. Se il Bari, restando a meno 6, col pari contro il Palermo, si è praticamente autoescluso dalla corsa dalla piazza d'onore, il Catanzaro si è rifatto sottominaccioso. Battendo il Catania per 2-0, la squadra di Calabro è tornata a meno 5 dai lupi, ma in virtù della partita da recuperare mercoledì a Castellammare, potenzialmente potrebbe ritrovarsi ad appena due lunghezze con il vantaggio dello scontro diretto. Senza fare calcoli complicati, tutto questo significa che per non correre il pericolo di incappare in un brutto scherzo, visto che il Catanzaro, nelle gare successive atteso da Viterbese e Monopoli, i biancoverdi corrono adesso il rischio di dover vincere le prossime due partite contro Teramo e Cavese. Due vittorie comunque alla portata della squadra di Braia, che resta padrona del proprio destino, a patto che, come è accaduto in passato, faccia tesoro degli errori di superficialità, leggerezza e approccio sballato a partite apparentemente facili soltanto sulla carta. Errori che a Vibbo Valenza si sono ripetuti in fotocopia, mandando su tutte le furie il tecnico. L'allenatore di Grosseto, nella sua rabbiosa analisi del dopo partita, ha minacciato provvedimenti, paventando persino l'ipotesi del ritiro anticipato. Tutta colpa di atteggiamenti sbagliati da parte di alcuni elementi che in questa fase preoccupano Braia più del prepotente ritorno del Catanzaro. Dal razza, infatti, era licito attendersi una prova diversa da alcuni gregari, chiamati a sostituire diversi titolari, da cui questa squadra, purtroppo, non può in questa fase prescindere. Le sostituzioni nell'intervallo di Rocchi-Adamo, ma anche la fumosa prestazione di Baraje, hanno confermato che difficilmente potranno essere loro a sostituire, in caso di necessità, Silvestri e Tito. Se per quest'ultimo c'è la speranza di vederlo, sempre in campo perché assente a Vibbo per squalifica, la perdita del difensore palermitano si è già avvertita in maniera pesante in Calabria, anche perché lo stesso Miceli, al rientro dopo la panchina punitiva contro il Bari, ha confermato di non essere in questa fase lo stesso di due mesi fa. Per fortuna, in un pomeriggio, da dimenticare, si sono registrati positivi ritorni in campo di Laizze e Del Rico. Pensare di risolvere con loro i problemi di questo Avellino, tuttavia, è oggettivamente utopistico, soprattutto perché non potranno mai avere da qui alla fine la condizione fisica giusta per affrontare i 90 minuti, giocando gare play-off dall'agonismo esasperato e da distanza di pochi giorni. Ecco allora che a partire da oggi, col benedetto e scontato rientro di Carriero, Tito e Dossena, ma anche la bella notizia della negatività al Covid di Sant'Aniello, diventerà inevitabile iniziare a sperimentare pure la mossa di Ciancio in difesa. Mossa, che come intravisto in Calabria nella ripresa, non sarà nemmeno la sola perché Braia sta da tempo, lavorando ad un diverso canovaccio tattico, con l'obiettivo di dare maggiore imprevedibilità alla manovra offensiva. Per farlo, nella speranza che in giornata arrivino notizie confortanti pure dall'ecografia di Maniero, che ha avvertito un fastidio al fressore, Braia proverà a sfruttare, almeno part-time, la fantasia di Enrico e De Francesco rispolverando i lavori sul 4-3-1-2.